Musica Concluso un lungo processo di negoziazione tra l'amministrazione comunale e i sindacati con la firma dell'accordo sul salario accessorio relativo agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 che ammonta circa 175.000 euro l'anno per un totale di quasi 700.000 euro. L'intesa, suffragata dal parere favorevole dei revisori dei conti, permetterà ai dipendenti comunali di ricevere, dopo quasi sei anni di attesa, i compensi per le posizioni organizzative e per attività che prevedono specifiche responsabilità e o rischi per le turnazioni e i festivi, per attività disagiate e maneggio valori. La trattativa è stata condotta per la parte pubblica dal segretario generale Carolina Ferro, dal dirigente del personale Renzo Giarmanà e dal ragioniere generale Pino Erba. Per la parte sindacale da Giacomo Balata per la CGL, da Valeria Lajacona per la CISL, da Giuseppe Saeli per la UIL e dalle diverse RSU rappresentanze sindacali unitarie. Non ha firmato l'accordo sindacale il CSA. I 16.840 contribuenti di Caltagirone riceveranno nei prossimi giorni gli avvisi di pagamento del saldo Tari Tariffa Rifiuti 2017, la tassa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti. Il pagamento a conguaglio di quanto dovuto per il 2017 va effettuato con il modello F24, già compilato e allegato all'avviso stesso, entro sabato 16 dicembre. Quanto dovuto a saldo della Tari è calcolato con le tariffe 2017, approvate con la delibera del Consiglio Comunale numero 70, nello scorso 15 novembre, dal quale sono stati scomputati gli importi dovuti in acconto e scaduti il 31 luglio 2017 e il 16 settembre 2017. Le tariffe Tari per il 2017 hanno registrato una diminuzione dell'8,51% rispetto al 2016. Ciò è stato possibile grazie alla scelta dell'amministrazione comunale di avviare dal primo giugno di quest'anno il nuovo servizio di igiene urbana mediante la raccolta differenziata porta a porta. L'obiettivo di questa nuova modalità di gestione è quello di incrementare la raccolta differenziata per contenere i costi di smaltimento dei rifiuti e ridurre le tariffe. Se l'avviso di pagamento non è recapitato in tempo utile per il pagamento della rata a saldo, il 16 dicembre, è possibile chiedere il duplicato all'ufficio front office in via Luigi Sturzo 14 nei giorni di apertura al pubblico, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13, martedì anche dalle 15 alle 17.30. Emesso l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al servizio, nonno vigile la cui istituzione e il cui regolamento sono stati previsti dalla delibera di Consiglio Comunale dello scorso 20 novembre. L'attività in questione, negli intendimenti dell'amministrazione comunale che l'ha proposta e del civico consesso, consiste nel presidiare e solvergliare a titolo di servizio civico volontario le zone in prossimità degli edifici scolastici negli orari di entrata e di uscita. Potranno pure essere previsti servizi di presidio e luoghi di incontro come aree attrezzate, strade e piazze in cui si determinano situazioni meritevoli di attenzione e o in occasione di manifestazioni. I cittadini, uomini o donne interessati a svolgere questa attività di volontariato dovranno presentare domanda all'ufficio protocollo del Comune o al Comando della Polizia Municipale o all'Ufficio Servizi Sociali entro le 12 dell'8 gennaio 2018 utilizzando l'apposito modulo che può essere scaricato dal sito del Comune o ritirato negli uffici sopraindicati e allegando la documentazione richiesta. Successivamente gli aspiranti volontari saranno invitati a colloqui individuali con il Comandante del Corpo o un suo delegato per valutarne le attitudini e conoscerne le esigenze. La Polizia Municipale organizzerà un corso di formazione rivolto ai volontari risultati idonei per definire ruoli e compiti del nonno vigile. Il mercatino degli agricoltori che il mercoledì si tiene nella parte antica della città viene sperimentalmente trasferito durante il periodo natalizio già a partire da mercoledì 6 a mercoledì 3 gennaio 2018 dal parcheggio Cappuccini in cui si svolge abitualmente alla piazza Innocenzo Marcinò che a lungo in passato è stata la location di un assai frequentato mercato. La decisione, come spiega l'assessore alle attività produttive Francesco Caristi, è stata assunta per accrescere e rendere ancora più variegata la già vasta offerta di eventi che caratterizza il Natale a Caltagirone. Resta invece mutata la locazione dell'analogo mercatino nella zona nuova che, anche nel periodo natalizio, continuerà a svolgersi ogni venerdì a ridosso della piscina comunale. Su iniziativa del Comune di Caltagirone e della Società Calatina di Storia, Patria e Cultura, lunedì 11 dicembre alle 11 nella Sala Silvio Milazzo del Palazzo Municipale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, sarà ricordato il centenario della morte del capitano a Rigo Ventimiglia di Monteforte, dei Lanceri di Novara, nato a Caltagirone il 7 gennaio del 1889, morto 11 dicembre del 1917 a Monte Coston, medaglia d'argento al Valor Militare. A seguire verrà scoperta, nell'atrio del Palazzo Municipale, una targa commemorativa. La Federazione Artisti Pasticceri Siciliani, grazie all'organizzazione della Vicepresidente Maria Piazza con il patrocino del Comune, organizza a Caltagirone per il 16 dicembre il primo Guinness Colorella di Caltagirone, concorso Cake Design a tema Natale che si svolgerà presso la Galleria Don Luigi Sturzo di Caltagirone. Natale in arte è il titolo dell'evento che su iniziativa del Comune della Proloco tutti i giorni dalle 10 alle 22 da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio si concretizzerà in una serie di esposizioni all'interno dell'ex pescheria di Via San Giovanni Bosco a Caltagirone. La collettiva fotografica Enosis di Denise Balistreri, la personale di fotografia di Giovanni Canfailla, Un po' di me e le mostre e o performance dal vivo di Mario Guccione, lavorazione in fibre vegetali, concetta Barresi, hobbista, Cristina Brezza, artista decoratrice ed Eugenio Piazza, presepe artistico. Inoltre nello spazio espositivo sarà installato un pianoforte a coda elettronico con cui si esibiranno il maestro Gianni Ragnolo, docenti e allievi dell'Istituto Musicale Pietro Vinci e chiunque sia dotato di un buon orecchio di capacità musicali. Continua a Caltagirone il servizio di ritiro porta a porta degli indumenti usati a cura della ditta Nuova Alba di Mineo. La raccolta viene effettuata una settimana nel centro storico e una settimana in tutta l'area urbana del centro nuovo. Questi i prossimi giorni, 15 dicembre centro storico, 9-22 dicembre centro nuovo. Gli indumenti usati dovranno essere posizionati per la raccolta in un sacchetto chiuso davanti l'uscio di casa o per i condomini davanti i cancelli di accesso pedonale e o carrabile nelle giornate sopraindicate dalle 7 alle 12. Si invitano tuttavia i cittadini a non ritirare il sacchetto sino a quando non verrà recuperato dalla ditta. I cittadini residenti al di fuori delle aree indicate o coloro che avessero particolari esigenze possono rivolgersi alla ditta Nuova Alba i numeri telefonici 0933 98 27 78 oppure 340 22 18 666. Si rende noto che nessun'altra ditta è autorizzata da questo comune ad effettuare il servizio in parola.